I now call Mr. Devina on behalf of the Free Democrats. Grazie Presidente. Ma innanzitutto va detto che la situazione attuale del Mediterraneo è il frutto di una serie di politiche sbagliate partorite per lo più oltreoceano dall'amministrazione Obama precedente a questa. L'obiettivo era quello di liberare il Nord Africa dai dittatori e così si sono alimentate le primavere arabe e che poi hanno solo destabilizzato, diciamo, quei paesi più che normalizzarli. Sono caduti i presidenti Ben Ali, Gheddafi e Mubarak ma al disegno mancava ancora l'ultimo, il presidente siriano Bashar al-Assad. Nel 2011 infatti è scoppiata la guerra civile in Siria ma da qui si sono scatturite poi una serie di conflitti latenti, da sempre latenti in quell'area. Lo scontro interno al mondo islamico, sunnita guidato dai paesi del Golfo con quell'uscita con a capo l'Iran. Sono riaffroate le tensioni tra Russia e il blocco occidentale, sempre capitanato dagli USA. Lo scontro fra Israele, Iran e gli Hezbollah ed infine tra Turchia e le entità kurde che conosciamo. Tutti questi conflitti hanno permesso una collaborazione, una vicinanza tra i vari gruppi fondamentalisti e così hanno consentito l'ascesa di ISIS o Daesh, cioè la nascita dello Stato Islamico. Da un rapporto dell'International Center for the Study of Radicalism noi sappiamo anche come Daesh adesso si alimenta, ossia da una connessione fra fonti di reddito e territorio controllato. Le fonti di reddito sono tasse, imposte, vendita di petrolio, rapimenti a scopo di riscatto, vendita di beni archeologici, razzie, confische, saccheggi, eccetera. E i problemi finanziari di Daesh sono in sostanza legati alla dipendenza della popolazione dal suo territorio, dal territorio che questa controlla. Le entrate di Daesh, Mr. Wilson, noi abbiamo numeri un po' diversi, sono passate da 1,9 miliardi di dollari del 2014 a 870 milioni nel 2016. Sicuramente oggi sono ancora meno che, se consideriamo che nel 2017 Daesh perde anche le due più grandi città di Iraq, Mosul e della Siria, cioè Raqqa, che tra l'altro era la capitale di ISIS. Questi sono i centri urbani maggiori, dove si concentra la maggior parte anche di popolazione, il che significa anche le maggiori entrate fiscali precedenti per il gruppo. Daesh è stato sconfitto militarmente, ma non è finito. Va combattuto fino all'estinzione. Sempre dal rapporto ICSR si evince che Daesh è presente in 39 paesi del mondo, tra cui quasi tutti i paesi a cui fanno parte questo Consiglio d'Europa. Sul fondo finanziario dobbiamo fare un'osservazione. Intanto va perpetrata e osservata fino in fondo la Convenzione di Versabia, che è stato il primo strumento internazionale di controllo sul riciclaggio di denaro per finanziare il terrorismo. Ma anche la nuova Convenzione di Nicosia, firmata nel maggio dell'anno scorso, 2017, relativo al traffico illecito di beni culturali. Solo Cipro ha ratificato questa Convenzione e poiché servono almeno tre stati del CDE perché entri in vigore, intanto esortiamo i nostri governi a far sì che firmino rapidamente. Bene, la risoluzione dei mister Wilson per noi, e vado a chiudere, Presidente, va appoggiata, ma il contrasto ad AES va intanto perseguito e coordinato con tutti i nostri Paesi, sia militarmente che con tutti gli strumenti che tolgano l'ossigeno, cioè le risorse finanziarie vitali per questa organizzazione criminale. Grazie, Presidente.